Quello che avete appena visto è il giuramento di ippocrate. Di cosa si tratta? Adesso ne parleremo. Anche se sono passati più di 1 anni, il giuramento di ippocrate è ancora attuale e un impegno che assumono i nuovi medici nel momento in cui intraprendono la professione medica. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!